A volte i rifiuti parlano e bisogna fare il lavoro sporco, nel senso che l'esperienza insegna che rovistando tra questi mucchi si possono trovare degli elementi significativi per poter indirizzare le indagini nel senso giusto. La caccia all'incivile, che aveva trasformato un'area dell'interporto di indicatori in una vera e propria discarica a cielo aperto, è durata poco più che 24 ore. I sigilli per una porzione della zona, che sarebbe dovuta diventare uno snodo cruciale per il trasporto merci, ma che in realtà non è mai stata realizzata, erano scattati lo scorso lunedì. Dopo il sequestro avevano preso avvio le indagini alla ricerca del responsabile di quello scempio. I carabinieri forestali di Arezzo adesso hanno individuato e denunciato il responsabile per abbandono dei rifiuti. Lavoro sporco di analisi dei rifiuti che erano presenti all'interporto, sono stati riscontrati degli elementi che hanno permesso di indirizzare, diciamo, più precisamente l'investigazione nei riguardi di un responsabile che effettivamente è stato riscontrato e è stato comprovato essere stato, diciamo, l'autore di questo smaltimento. Si tratta di un gestore di un laboratorio meccanico che da poco dalla periferia si era trasferito in città. L'uomo aveva abbandonato pannelli di cartongesso assieme ad altri materiali di scarto lasciati lì nel bel mezzo dell'area dopo aver ristrutturato i locali. Diciamo anche questo tipo di accertamenti servono, al di là della soluzione del caso specifico, anche come esempio un po' a tutti, insomma, di non cercare le scorciatoie, perché non pagano, anzi, sono l'inizio di un percorso spiacevole. L'imprenditore adesso dovrà ripulire? Assolutamente, e non solo, quindi anche rispondere, diciamo, penalmente di quello che ha commesso. I militari adesso stanno anche caratterizzando i rifiuti sequestrati per capire se ci siano altri illeciti di cui può essere accusato l'uomo. Si tratta di rifiuti speciali, ora si tratta di verificare se possono essere anche elementi di rifiuti pericolosi, ma questo aspetta ora l'ARPAT decidere.